Lei sempre a fare battutine, a punzecchiare, a dirmi di tutto e di più dove io non rispondo. Lascio il peso alle parole a quello che dice perché è veramente ridicolo. Si è visto in questo video che Vittorio ha detto, dopo la puntata, mi ha chiesto come mai non ti avevo votato. Giuseppe, dopo quell'episodio, è andato in giro a dire a tutta la casa che Vittorio gli aveva detto che io gli avevo detto di votarlo. È molto diverso. Io dopo le nomination ho chiesto a Vittorio chi hai votato e lui mi ha detto un'altra cosa. E tu gli hai detto ma perché non hai votato Giuseppe. Ho detto come mai non hai votato Giuseppe, visto il video che avevamo visto, siccome noi abbiamo funzioni abbastanza simili delle situazioni, visto che lui spesso vota a seconda dei video che vede, gli ho chiesto semplicemente come vota. Sì, però era molto diverso dal dire vota Giuseppe. Assolutamente. Cosa è successo? Non l'abbiamo parlato per niente. Non mi fa parlare. Dopo che Vittorio gli ha detto, mi ha chiesto dopo la puntata che avevo votato, come mai non avevo votato te, lui è andato in giro in tutta la casa a dire manipola Vittorio dicendogli di votarmi. Ma non è vero niente. Perché il discorso è successo. E ne abbiamo parlato tutto ieri. Quando tutti mi hanno chiesto il motivo per cui... Allora, io sinceramente, vista la cattiveria di tante situazioni, avendo perdonato di tutto, avendo visto pure l'ultimo video l'ultima volta, e anche quello di stasera, mi rendo conto che ho qui una persona di cui devo temere.